buongiorno ragazze oggi farò un breve video recensione sul marchio striplug di alessandro se vi interessa guardatelo ho utilizzato due colori sulle mie unghie alla fine del video vedrete il risultato dopo due settimane allora cominciamo ragazze io mi sono riuscita ad accaparrare questi quattro colori e la base top che due in uno allora proviamo a stendere questi colori allora ragazze il nostro primo colore è 905 rouge noir proviamo a stenderlo è un colore bordeaux molto scuro molto bello vi faccio vedere anche la consistenza ecco aspettate eccomi è abbastanza liquido come consistenza sono colori molto pigmentati quindi state attente se non avete una lampada abbastanza potente nel mio caso è 48 watt la lampada ccfl io metto nel mio caso tre passate molto sottile allora come vedete questa è la prima passata e sembra un colore un bordeaux molto molto bello poi invece la terza passata sarà molto più scuro che è colore che vedete sulle mie unghie allora io vado in lampada qua metto seconda e terza passate come vedete diventa molto più scuro più intenso nostro secondo colore ragazze e 170 hot stone sinceramente parlando ragazze più che una pietra del nome a me ricorda un pochino il fango come colore molto molto bello allora anche qua come vedete io cerco di stendere una passata sottile e ecco l'effetto della nostra prima passata vado in lampada e qua come nel primo caso vado a stendere la seconda e la terza passata guardate è un colore stupendo nostro terzo colore ragazze e 198 cashmere touch è un colore molto bello molto chiaro mi ricorda molto color cappuccino o caffè latte ed è quel colore che notate sulle mie unghie allora vado a stendere la mia prima passata come negli altri due casi passata la faccio sottile ed ecco guardate l'effetto della prima passata anche qua vado a stendere seconda e terza passata e cosa vi devo dire ragazze questo colore qua lo adoro nostro quarto colore e 104 heaven's nude è un colore trasparente bianco latigianoso con questi riflessi vedete un pochino azzurini molto belle mi dà la sensazione di usare sopra a un colore in questo caso bianco che si vedrà poco un pigmento molto molto bello non so se lo vedete qua vado con la seconda e terza passata purtroppo si vede poco l'effetto pronto allora ragazzi ho provato a mettervelo sui colori un po più scuri per farvi vedere l'effetto perché sul bianco purtroppo non si vede allora guardate come cambia colore con sopra questo colore qua questo è un rosso corallo e guardate diventa quasi rosa l'altro invece è un blu notte e diventa blu molto più chiaro per lato sono veramente belle con questo effetto sopra allora ragazze noi passiamo a top e base io qua come vedete ho già scritto i numerini allora quello che ho dimenticato di dire all'inizio è che tutte le boccette sono da 8 millilitri e è un marchio tedesco ma si produce in austria e top e base è un due in uno allora guardate un po la consistenza allora qua a dire la verità in questo momento sembra liquida ma io l'ho usata e è una media densità allora quello che voglio dire io ho usato due di questi colori qua questi due qua come vedete ecco e li ho usati due settimane fa quindi il video lo sto facendo a posteriore apposta quindi come vedete il top e dopo dopo due settimane è perfettamente lucido ancora quindi top e base promosso alla grande unica pecca secondo il mio pensiero è che i colori sono talmente pigmentati che bisogna mettere uno strato sottile io ho dovuto mettere tre strati sottili quindi lavorando su una cliente perdi un po di tempo però per il resto come vedete il risultato dopo due settimane è ancora perfetto lucido non ci sono non ci sono problemi se per caso vi interessa la nail art che vedete qua sulla mano la trovate su mio facebook o su instagram foto passo dopo passo tutorial quindi cercatelo ovviamente di due settimane fa circa come data a questo punto vi saluto spero che vi è stato utile la mia recensione su questo marchio grazie grazie grazie